I carabinieri della compagnia di Alghero durante lo scorso weekend hanno intensificato i servizi a carattere preventivo volti a prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera. In particolare, nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile hanno deferito all'autorità giudiziaria due algheresi, rispettivamente di 26 e 57 anni d'età, per guida in stato di ebrezza. E' bene ricordare che le sanzioni per questo reato vanno da un minimo di 500 euro di ammenda con la pena dell'arresto fino a un mese e la sospensione della patente per tre mesi, fino a un massimo di 6.000 euro di ammenda, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente fino a due anni. Nella notte di sabato, i militari hanno anche effettuato un arresto per il reato di evasione dai domiciliari di un trentenne pregiudicato locale.